Beh, se fossero ville o appartamenti ne potremmo capire il desiderio o la necessità. Invece parliamo di loculi. Sì, avete capito bene, loculi cimiteriali. E non si può immaginare quante siano le persone interessate al problema nella città di Pagani. Al punto che abbiamo l'obbligo di porre qualche domanda ai responsabili tecnici ed amministrativi del Comune. Ma i lavori per la costruzione dei suddetti loculi riprenderanno? E se sì, quando saranno completati e consegnati ai richiedenti, molti dei quali desiderosi di sapere anche quale fine hanno fatto gli anticipi a loro richiesti a suo tempo, diciamo che la fiducia non si è ancora persa. Però, per la verità, molti utenti che attendono già da qualche anno stanno perdendo la pazienza e minacciano quasi di richiedere le somme anticipate con relativi interessi. Se ciò fosse, l'opera salterebbe? Ed allora perché non emanare un comunicato stampa e dare le giuste risposte? Noi sicuramente cercheremmo di saperne di più, perché ad oggi, pur avendo tentato di contattare qualcuno dei responsabili, non ci è stato possibile. Vuol dire che aspetteremo che il prefetto, dottore Mazza, torni in sede la prossima settimana per chiedere e per poi raccontare ai cittadini.